Ambrosini, Boatenga, vede l'inserimento di Ambrosini, preferisce andare dalla parte opposta dove c'è ancora Pacifico il cross in ar di rigore, Ambrosini e c'è il gol dell'1-0 del capitano del Milan che sblocca la situazione al decimo minuto. Milan a rosso-nero 1 su un bellissimo colpo di testa, rivediamo qui il traversone, preciso, è lo stacco di Ambro che non da...